I finanziari del nucleo mobile del gruppo Dieboli hanno individuato un 35enne di campagna che vendeva online volatili appartenenti alla specie Cardellino, del quale sono rigorosamente vietati la cattura e la detenzione. Le fiamme gialle hanno rinvenuto il nascondiglio in cui si trovavano stipati, in condizioni non idonee, 30 Cardellini ed un passero solitario. In un casolare in aperta campagna erano invece conservati gli attrezzi utilizzati per la cattura. I Cardellini erano stati tutti presi all'interno del Parco Nazionale del Cilento e messi in gabbia per la successiva vendita sul mercato nero al prezzo base di 30 euro cada uno. Dopo le formalità di rito i Cardellini sono stati liberati presso l'Istituto Agrario Dieboli dai finanzieri e dal personale dell'ente nazionale per la protezione degli animali. Il passero solitario invece è stato affidato in custodia ad un ente di Napoli. Il responsabile del commercio illegale è stato denunciato alla Procura della Repubblica e dovrà rispondere dei reati di maltrattamento di animali, detenzione di fauna protetta e furto ai danni dello Stato.